Hanno notato un anomalo via vai di persone che entravano e uscivano da un portone di una palazzina di via Bertini a Bitonto e seguendo la scena i poliziotti hanno verificato che almeno quattro individui venivano avvicinati da un giovane. Insospettiti dallo strano atteggiamento di quest'ultimo, un 18enne incensurato poi arrestato, gli agenti hanno scoperto una fiorente attività di spaccio di droga. Il ragazzo in realtà accompagnava i clienti al portone, bussava al campanello e dopo essersi fatto riconoscere da un complice faceva entrare il potenziale acquirente. All'interno di un'abitazione dello stabile, un 17enne provvedeva poi a vendere la roba. In una borsa la polizia ha trovato circa 40 grammi di cocaina suddivise in 68 involucri e 220 grammi di marijuana suddivise in 85 dosi, oltre a 10 grammi di hashish già divise in pezzi e 630 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Droga e soldi sono stati sequestrati. Da una successiva perquisizione nell'abitazione utilizzata per la vendita, gli agenti guidati dal commissario Giorgio Liva hanno trovato e sequestrato altri 33 grammi di cocaina in due involucri e 110 grammi di marijuana già suddivisa in 53 dosi. Il 18enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, mentre il 17enne è stato accompagnato all'Istituto Fornelli di Bari. Nell'ambito dell'attività la polizia di Bitonto ha anche eseguito un ordine di carcerazione nei confronti del 38enne Vito Cassano, Bitontino, già noto alle forze dell'ordine, per una pena ancora da scontare di 4 anni e 4 mesi di reclusione per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, durante i servizi di prevenzione nelle campagne di Bitonto, Mariotto, Palombaio e Quasano, gli uomini del commissariato hanno controllato 23 mezzi, sequestrandone due in quanto senza copertura assicurativa.